Ulteriori migliorie per lo Stadio Angelini di Chieti dopo i lavori che sono stati fatti per migliorare anche la parte dedicata all'atletica, adesso arriva il lavoro sul verde e sono stati infatti assegnati i lavori che riguardano il verde dello Stadio Angelini. Assolutamente sì, ci tenevamo in maniera particolare, abbiamo espletato quelle che erano le procedure, abbiamo affidato il servizio di manutenzione del manto erboso per un totale di 66 mila euro alla ditta Garden Gardenia che era la stessa ditta che ha gestito il manto erboso e la manutenzione dello stesso anche nella pasta della stagione. Abbiamo attraverso gli uffici espletato tutto quello che era l'iter quindi partendo da un'indagine di mercato e poi siamo arrivati però a puntare molto sulla qualità, a puntare molto su quei parametri che possano consentire alla squadra di calcio del Chieti di avere un manto erboso in condizioni ottimali per una stagione sportiva che si accinge ai nastri di partenza e che promette davvero molto bene. Noi siamo un'amministrazione molto presente, molto attiva a supporto ovviamente di quello che è il tessuto sportivo cittadino, in questo caso ci tenevamo a regalare un manto erboso veramente di categoria importante perché la città lo merita e quindi abbiamo veramente corso contro il tempo per fare in modo che tutto fosse pronto per la stagione entrante. Inutile ricordare quanto sia importante il manto del Prato per gli incontri di calcio. Assolutamente, è fondamentale così come sono fondamentali i lavori che vengono effettuati dopo le partite in termini di ripiantumazione, in termini ovviamente di irrigazione, in termini di monitoraggio di eventuali batteri, eventuali funghi, insomma veramente un lavoro certosino. Abbiamo puntato molto sulla qualità anche nei criteri valutativi e poi abbiamo affidato il servizio e questo è stato veramente un lavoro importante che gli uffici hanno portato avanti anche a ridosso del periodo estivo perché insieme al nostro sindaco ci tenevamo in maniera particolare e siamo felici di essere riusciti a predisporre il tutto in tempo non soltanto per l'inizio della stagione ma anche per far sì che lo stadio possa essere quel fiore all'occhiello che la città merita e noi su questo ci lavoriamo veramente quotidianamente. Grazie.